Il Partito Democratico del Molise sarà al fianco degli operai della Stellantis nella manifestazione del 18 ottobre a Roma, urgono soluzioni immediate. Si celebra oggi la giornata dedicata alla salute mentale, in aumento ai casi di ansia e depressione, soprattutto nelle fasce d'età più giovani. Prima gara stagionale all'Arena per la Magnolia che batte le ungheresi del PECS in occasione dell'Euro Cup, prosegue il periodo positivo per le Rosso-Blu. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e bentrovati con l'informazione di TLT. Apriamo con la cronaca. Sono terminate nella serata di ieri le operazioni dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti nel centro storico di Ielsi per un incendio divampato all'interno di uno stabile disabitato. La struttura, già in evidente stato di degrado, è stata gravemente danneggiata dalle fiamme. Restano da chiarire le cause che hanno generato il rogo. E cambiamo argomento. È stata illustrata questa mattina a Palazzo San Giorgio la proposta presentata dal gruppo di consiglieri di Fratelli d'Italia che riguarda l'istituzione di un osservatorio comunale sui servizi pubblici. È stata già discussa in commissione ad attende di essere integrata la proposta presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia al comune di Campobasso in merito all'istituzione dell'osservatorio sui servizi pubblici comunali. L'istituzione di un organismo preposto alla valutazione dei servizi svolti da terzi, quali aziende ed imprese, per il comune consentirebbe di individuare le criticità ed i punti di forza dei vari settori, migliorando i servizi ed investendo le risorse economiche in modo mirato. Si tratta di un'iniziativa volta a centralizzare quella funzione di monitoraggio indispensabile da parte di un ente locale, in virtù anche di una nuova normativa, penso al decreto legislativo 201 del 2022, che ha ristabilito insomma anche i rapporti e i ruoli di vigilanza e monitoraggio da parte dell'ente che è concessionario di alcuni servizi nei confronti di aziende, siano esse in house o esterne, private, proprio per capire se il servizio è efficiente per gli utenti, quindi i cittadini, e allo stesso tempo se è economicamente valido per l'amministrazione. La proposta prevede tre elementi fondamentali, quindi quello di un osservatorio che immaginiamo possa essere, diciamo così, composto dal segretario generale, da un dirigente dei lavori pubblici, penso a una convenzione con l'università e quindi con il dipartimento di economia, un professore di statistica funzionale a ciò che ci occorre attraverso insomma delle indagini al campione e allo stesso tempo anche i rappresentanti dei consumatori che anche per la loro funzione di tutela sono indispensabili. Ecco, ma ripeto, la proposta è aperta e attraverso due strumenti, quello di una carta dei servizi centralizzata, generale, che può un contratto tra l'ente e i cittadini e indagini di customer satisfaction periodiche che vanno fatti. Oltre al monitoraggio in collaborazione con enti ed istituzioni come l'università, ma anche con le organizzazioni di consumatori, un grande passo avanti verso l'ottimizzazione dei servizi comunali sarebbe rappresentato anche dall'attuazione per i cittadini di una carta dei servizi generale riguardante tutti gli ambiti, dai trasporti ai servizi cimiteriali. Questo strumento consentirebbe ai cittadini di segnalare immediatamente eventuali disservizi, io credo che sia doveroso segnalare che è una proposta interessante proprio per la cittadinanza, al seguito di renderli partecipi proprio della vita istituzionale e amministrativa. È un'apertura, un dialogo, ecco, aperto ai cittadini che possono segnalare le criticità ma come anche dei posti da mettere in risalto per gli eventi culturali, per gli eventi sociali, mettere in risalto quello che la nostra città può offrire, magari a noi può sfuggire e quindi di conseguenza i cittadini diventerebbero protagonisti insieme con noi nelle istituzioni. A Campobasso, oltre alle regolari interruzioni notturne del flusso idrico per la giornata di oggi, è stata programmata su disposizione di Moliseacque anche una chiusura di urna a causa di un guasto alla rete. Risultano chiusi dalle ore 8 di questa mattina i serbatoi Cese Alto e Cese Basso. E restiamo nel capoluogo dove l'amministrazione comunale sta lavorando per restituire decoro al centro storico. Il prossimo passo riguarda la gestione del traffico e dei parcheggi per i residenti e i commercianti della zona. Sentiamo. Dopo le vicende degli ultimi mesi che hanno visto il centro storico di Campobasso diventare lo scenario di attività di spaccio ma anche di risse notturne nei locali pubblici, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per ristabilire ordine e restituire il decoro urbano, ma anche per gestire il traffico dei veicoli nella zona del centro storico. Negli ultimi mesi ci sono stati delle situazioni un po' particolari per quanto riguarda lo spaccio e tanti altri episodi di microcriminalità. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro capillare che stanno facendo sul territorio. Infatti i risultati si vedono. La situazione adesso è un po' più calma. Per quanto riguarda la ZTL è un atto di discussione nella Commissione Competente Mobilità ma ci stiamo soffermando soprattutto per i parcheggi perché da tempo ho richiesto di restituire i contrassegni per i residenti. Quindi stiamo lavorando proprio sui parcheggi nella Commissione Competente Mobilità. Ci saranno degli eventi. Stiamo lavorando nella Commissione Competente con l'auspicio che la maggioranza ci dia ascolto. Quindi diciamo che sul centro storico l'attenzione è molto alta e quindi faremo di tutto per restituire dignità e decoro al nostro centro storico. Una situazione che interessa molto non soltanto i residenti ma anche le tante attività commerciali della zona. Per le attività commerciali si sta facendo sempre un lavoro nella Commissione Competente proprio attraverso degli eventi. Ci sono varie associazioni che stanno lavorando per dare dignità al centro storico con il contributo di residenti e commercianti. Quindi come dicevo prima l'attenzione è alta. L'istituzione dell'Agenzia regionale per la montagna e lo sviluppo delle zone montane. La proposta di legge è presentata dai consiglieri regionali del centro-destra, Stefania Passarelli e Armandino De Gidio ed attualmente in valutazione da parte della seconda Commissione. La proposta prevede la messa in atto del piano di sviluppo per la valorizzazione delle aree interne e delle comunità montane. Ci sarà anche il Partito Democratico del Molise venerdì 18 ottobre a Roma per dare il proprio supporto agli operai della Stellantis di Termoli in occasione della manifestazione organizzata dalle sigle sindacali. Il Partito Democratico del Molise sarà al fianco dei sindacati e dei lavoratori del gruppo Stellantis di Termoli del settore automotive in occasione dello sciopero proclamato a Roma per venerdì 18 ottobre per chiedere interventi urgenti e concreti a difesa degli operai e del futuro industriale sul territorio. La situazione di salo che si è creata e che coinvolge lo stabilimento e i dipendenti ogni giorno che passa è destinata a diventare sempre più pericolosa con il rischio di gravi ripercussioni sul piano sociale e occupazionale. La partecipazione alla manifestazione della capitale, si legge nella nota del PD, segue le tante iniziative che il partito ha già messo in campo a supporto dei lavoratori e del territorio. La scorsa settimana a Termoli la Federazione PD del Basso Molise ha organizzato un incontro pubblico alla presenza dei sindacati e del senatore Michele Fina che ha recentemente presentato un'interrogazione parlamentare sul tema. Le intenzioni degli esponenti di centro-sinistra sono quelle di intervenire immediatamente con urgenza e soprattutto determinazione prima che sia troppo tardi e prima che ci siano danni irreversibili per l'intera regione. A proposito della Stellantis, sinistra italiana presentato in Parlamento attraverso l'onorevole Nicola Fratoianni, un'interrogazione con la quale ha chiesto quali saranno le iniziative da assumere per il rilancio industriale dello stabilimento. La richiesta al Ministro delle Imprese Adolfo Urso è di destinare la montare dei fondi riallocati su altri progetti alla realizzazione della Gigafactory. Oggi la giornata mondiale della salute mentale. Alex Gilla Campobasso, un convegno promosso dall'associazione Liberamente Insieme. Sensibilizzare sul tema della salute mentale e indicare percorsi e strategie adeguate per poter affrontare i problemi che si possono presentare. Questo è il tema al centro dell'incontro promosso dall'associazione Liberamente Insieme in collaborazione con il Centro Salute Mentale. L'importanza delle parole se ne è discusso in una sala gremita oltre che di esperti del settore anche di studenti perché, così come è stato sottolineato nel corso dell'incontro, i giovani vanno educati culturalmente un compito che spetta ai vari attori del territorio, il mondo della scuola, le famiglie, le istituzioni. Si continua sempre a parlare della salute mentale, delle prevenzioni, però vediamo che quando chiediamo un aiuto alle istituzioni per creare dei progetti di sensibilizzazione incontriamo sempre delle difficoltà, siamo un po' delle cenerentole. Vediamo che questi finanziamenti spesso vengono dirottati sul privato pensando alla costruzione di CPR, di case per il recupero psichiatrico e sociale, mentre le associazioni potrebbero fare tanto perché all'interno ci sono delle persone che hanno un'esperienza di conduzione di queste persone con il disagio veramente allo stesso livello di un professionista. Quindi io direi più considerazione per le associazioni, più territorio perché veramente siamo in grado di portare avanti delle situazioni che sono molto molto delicate. Diventa dunque un appello alla classe politica, alla classe istituzionale, un appello che deve concretizzarsi anche in termini economici? Sì, anche perché oggi abbiamo organizzato questo convegno e vi dico la verità, non abbiamo avuto nessuna sovvenzione pubblica, lo abbiamo fatto a nostre spese e quindi come diceva Basaglia anche l'impossibile è possibile. Al parco tecnologico dell'istituto Neuromed domani mattina a Pozzilli verrà illustrato il progetto Bones della Banca Osseologica del Molise. Sarà uno spazio dedicato e protetto nel quale scheletri umani antichi custoditi saranno studiati da esperti ricercatori. Grazie a tecnologie di ultima generazione sarà infatti possibile indagare l'aspetto fisico, lo stato di salute, l'alimentazione e gli stili di vita dei molisani di un tempo. È il tema della sostenibilità uno dei nodi centrali dell'azione della Colacem, azienda leader per il cemento. Grande attenzione al tema della sostenibilità, un impegno costante della Colacem, una delle maggiori aziende produttrici e fornitori di cemento che ha sede anche in Molise, a Sesto Campano, dove è presente dal 1993. Questo quanto emerso dagli ultimi dati pubblicati dall'azienda, un rapporto composto da oltre 130 pagine ricche di dati, grafici, tabelle e informazioni. Per l'azienda, che solo nello stabilimento in provincia di Sarnia produce 180 tonnellate di cemento l'ora con le migliori tecniche in campo industriale, gli investimenti ambientali ammontano a quasi 38 milioni di euro nel triennio 2021-2023. Tra questi spiccano i sistemi di filtri ibridi che hanno permesso di migliorare ulteriormente le emissioni specifiche di polveri da sempre ampiamente al di sotto dei limiti di legge. In un'ottica di economia circolare, il 6% delle materie prime utilizzate proviene da materiali riciclati, mentre oltre il 22% dei combustibili fossili è stato sostituito con combustibili alternativi più sostenibili. Dal punto di vista sociale, Colacem impiega quasi 900 persone in Italia, di cui oltre il 99,5% con contratti a tempo indeterminato, oltre a dedicare particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro con importanti investimenti e una formazione continua. Questa sera accoglie a Volturno l'inaugurazione della mensa scolastica nell'Istituto del Paese, una moderna cucina e refettorio a disposizione degli studenti del posto che torna in funzione a Colli dopo circa 20 anni. Si è abbassata pericolosamente in Italia la media di figli per coppia. Siamo solamente a poco più di uno per ogni giovane donna. In Molise avanza ancor più l'invecchiamento della popolazione. L'Italia è uno dei paesi dell'Unione Europea tra i più anziani in assoluto. Il Molise è ancora di più rispetto al resto delle altre 19 regioni della penisola. Anche per le centinaia centinaia di giovani che lasciano ogni anno la propria terra per cercare altrove occupazione, spesso diretti verso le grandi città del centro-nord come Bologna, Milano, Venezia e Torino. Secondo i dati Istat del 2021, infatti il numero medio di figli per donna in età fertile è di appena 1,2. Questo valore, molto al di sotto della soglia di 2, necessaria per garantire il ricambio generazionale, conferma la crescente preoccupazione per l'invecchiamento della popolazione nazionale. Il paese si sta trasformando velocemente in una società prevalentemente ultra 65enne. Di fronte a questo scenario la tutela della fertilità diventa un tema centrale sia per il futuro demografico che per la salute pubblica. Un argomento di attualità voluto e dibattuto all'ospedale Ex Gemelli di Contrada Tappino a Campobasso. L'evento scientifico ha avuto l'obiettivo di promuovere una approfondita discussione in grado di fornire una visione multidisciplinare sulla gestione e la protezione della fertilità delle giovani donne. Questa sera su TLT riprenderà a focus il programma di approfondimento su temi di attualità affrontati insieme agli ospiti in studio. La trasmissione condotta da Virginia Romano andrà in onda tutti i giovedì sera alle ore 21 e il venerdì in replica alle ore 15 e 30. Vediamo insieme un estratto. Presidente, l'abbiamo ascoltato. C'è da dire però che si dice riduzione, quindi chiusura dei serbatoi durante la notte, insomma durante la notte limitano poi i disagi. Quello che dicevamo prima, non è un problema di portata d'acqua. Gravina dice Moliseacque ha una situazione finanziaria non rosea e l'abbiamo detto però abbiamo individuato anche insomma le soluzioni possibili per uscire dalla cosa. C'è poi un altro nodo che è il nodo della programmazione. Anche su questo l'opposizione in consiglio regionale, perché ormai è diventata una questione politica insomma a tutti gli effetti, dice è un problema di programmazione. Io le chiedo a lei è un problema di programmazione? Sicuramente è un problema anche di programmazione. Nel senso che la gestione della risorsa idrica bisogna cercare di farla con un occhio alla gestione ordinaria, quotidiana che noi facciamo. E quindi dicevo già che Moliseacque con pochi dipendenti tutto sommato, perché si tratta di 100 persone, gestisce una rete veramente enorme di 2200 chilometri. Oltre alla gestione delle centrali di sollevamento che è veramente molto onerosa come manutenzione e anche come gestione quotidiana. Dall'altro lato però noi dobbiamo, non possiamo perdere di vista la prospettiva. E qui come si sta muovendo Moliseacque? Si sta muovendo con la idea di fare in modo di creare delle centrali idroelettriche. Nel senso che ci sono dei costi. Perché i costi per portare l'acqua ai comuni molisani sono elevati? Sono elevati perché noi siamo, è un problema per farmi capire, paragonabile a quello della sanità. Perché portare i servizi a casa di tutti i molisani o nelle vicinanze come nel caso della sanità di tutti i molisani è costoso. Perché noi siamo una regione che ha la sua estensione territoriale, però abbiamo una distribuzione sul territorio della popolazione che fa in modo che ci sia una frammentazione della densità abitativa. Quindi siamo pochi, è vero, però siamo sparsi su un territorio. Quindi bisogna far arrivare l'acqua, e vengo al punto, a tutti i piccoli comuni molisani. Se i molisani, 280 mila, fossero tutti concentrati in un'unica città o perlomeno nelle immediate vicinanze, basterebbe una condotta. Invece abbiamo 2200 chilometri di condotte perché bisogna portare l'acqua in 136 comuni, oltre a tutti i comuni pugliesi, campani e abruzzesi. Quindi è chiaro che, poi tra l'altro i nostri centri abitati si trovano quasi sempre su alture, perché noi abbiamo questo stampo di derivazione medioevale. E quindi tutti i nostri comuni stanno su colline, collinette, montagne eccetera. Quindi l'acqua non soltanto bisogna portarla, ma bisogna sollevarla. Quindi portare l'acqua anche a poche persone è costoso. 35 centrali di sollevamento sono tantissime per 280 mila abitanti. Quindi è chiaro che un problema di abbattimento dei costi c'è, ci deve essere. Quindi quello che stiamo cercando di fare noi è partire con il funzionamento di centrali idroelettriche. E adesso un'occhiata al meteo prima di passare allo sport. Metal impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, pvc e legno alluminio. Metal impianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Cielo nuvoloso con possibilità di piovaschi nel tardo pomeriggio sulle aree interne. Le temperature in Molise sono comprese tra la minima di 14 gradi a Campobasso alla massima di 22 a Disernia. In Abruzzo valori compresi tra i 12 gradi dell'Aquila e i 26 gradi di Pescara. Venti da sud con forti raffiche, mare adriatico mosso. Domattina cielo solo parzialmente nuvoloso, temperature in leggero calo. Pallacanestro femminile di Serie A1 all'Arena di Contrada Selvapiana a Campobasso la Magnolia batte 72 a 65 le ungheresi del PECS in occasione della gara di Euro Cup. Così il quintetto di coach Mimmo Sabatelli può festeggiare anche nell'avventura europea dopo i risultati ottenuti in avvio di stagione. Intanto le rosso-blu torneranno sul parquet di casa già domenica per affrontare l'Alpo in campionato. Calcio di Serie D con due reti per tempo. L'Ancona batte il Sora e Scavalca e Laziali in classifica. Vediamo i risvolti filmati della partita. L'Ancona ritrova la vittoria dopo le due sconfitte consecutive incassate in casa con il Chiedi e poi nel derby a Senigallia contro la Vigor con un roboante 4-1 a spese del Sora. Sora che era arrivato con una buona classifica qui al Del Conero e che invece è stato travolto da un'Ancona che ha ritrovato insieme la via del gol dopo due partite concluse senza andare a rete ed ha anche trovato autostima e fiducia. E pensare che abbiamo assistito a due partite. La prima che è durata 29 minuti durante i quali il Sora aveva in qualche maniera messa in ambasce l'Ancona con un pressing a tutto campo soprattutto nella metacampo dell'Ancona pressing alto che copriva soprattutto i portatori di palla bianco-rossi e quindi metteva l'Ancona in difficoltà nello sviluppare le manovre offensive. Poi su una bella iniziativa di Savoro sulla destra che è stato capabile di inseguire un pallone è riuscito a rimetterlo in mezzo ed è stato Ippoliti il numero due del Sora nel cercare di anticipare Martiniello a mandare la palla sotto la traversa e quindi in rete siglando involontariamente il vantaggio dell'Ancona. Da quel momento la partita è cambiata, l'Ancona ha preso in mano il comando delle operazioni e è riuscita a raddoppiare al 44esimo lo scadere del primo tempo con un bellissimo calcio di munizione di Gulinati disegnato da una decina di metri dal limite dell'area il sinistro di Gulinati con la palla che è finita sul primo palo dove Simoncelli il portiere del Sora non poteva arrivare. Proprio all'inizio del secondo tempo dopo pochi secondi dalla ripresa del gioco l'Ancona è andata sul 3 a 0 con Savor che si è inserito sulla destra ed ha battuto ancora Simoncelli il portiere del Sora. Sul 3 a 0 proprio nelle battute iniziali del secondo tempo l'Ancona ha potuto poi controllare la gara senza rinunciare a cercare di ancora impensierire il portiere del Sora. Al dodicesimo del secondo tempo il Sora ha fallito l'occasione per portarsi sul 3 a 1 con Bauco che da due passi tutto solo ha impattato male e ha messo la palla oltre la linea di fondo. Poi c'è stata l'occasione per Sambu di marcare il quarto gol al ventinovesimo. Una bella iniziativa di Sambu sulla sinistra in combinazione con Pecci Sambu entra in area poi ha calciato di sinistro la palla è uscita di pochissimo e subito dopo un'altra occasione per l'Ancona con in evidenza Simoncelli che per due volte ha respinto e murato le conclusioni dell'avanti dell'Ancona. Al 34esimo il gol inaspettato del Sora che ha ridotto le distanze con Fagotti un bel tiro dal limite che ha sorpreso l'Auxemis sul 3 a 1 il Sora ha cercato in qualche maniera di riaprire la partita ma invece è arrivato proprio allo scadere al 45esimo un bellissimo gol di Sambu. Il giocatore subentrato e messo in campo da Gadda nel secondo tempo ha trovato un bel sinistro con la palla sul secondo palo dove Simoncelli proprio non poteva arrivare. 4 a 1 quindi per l'Ancona che esce da questa partita con un ritrovato entusiasmo, una ritrovata fiducia e può guardare avanti con 9 punti in classifica. Questa sera a Campobasso nei locali della Facoltà Universitaria di Giurisprudenza la presentazione della squadra del Cus Molise quintetto allenato da Marco Sanginario che prenderà parte al campionato di Serie A2 Elite di Calcio 5 nazionale. La stagione sportiva prenderà il via sabato 12 dopo domani in casa al Palamunimo al contro i siciliani del Mascaluccia. Inizio gara alle ore 15. E questa era l'ultima notizia e il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Buon proseguimento.